Ciao a tutti amici di Non Aprite Questo Blog Benvenuti finalmente di nuovo Re Sab di Tom Grande Thomas Fai così Cazzo Risabbatevi, risabbatevi Che vuol dire risabbatevi Vuol dire Riabbonatevi al canale Oggi siamo qua per parlare di La Classic Horror Story Ma non solo, vedremo anche le uscite DCG Entertainment No, che cazzo sto dicendo? No, ho sbagliato Di Digit Movies e Eagle Picture CG Entertainment più avanti Comunque Sapete che col Gons potrete sapere Tutto ciò che esce in un video Anche col supporto La rifacciamo? Ma no, ma chi se ne frega Chi se ne frega Chi se ne frega, ragazzi Oggi parliamo di American Horror Story Sono felicissimo di essere qui a parlare di American Horror Story Perché ho talmente tante cose da dirvi Che non vi spoilerano il film Perché voi sapete che sono bravissimo A non spoilerare Intanto mando un messaggio così Ai buoni amici della chat Di non aprite questo blog su Telegram Se volete iscrivervi Sapevatelo che esiste È una chat bellissima Qualche intopo ogni tanto Però È una chat bellissima Che ha i suoi momenti di gloria E i suoi momenti di no Però Che cazzo vi devo dire Intanto vi Intanto li devo avvisare Perché loro sono Io ci tengo molto Loro Tutti quelli che sono nella chat di Telegram Il gruppo Telegram Vediamo le uscite Un'uscita a un video horror di Eagle Picture E tre uscite horror Di Digit Movies Che sapete Fa uscire gli spasmo video Che sono i nostri preferiti E anche un film horror Non spasmo Che vi dico dopo Poi sono andato al mercatino stamattina Infatti sono stanchissimo Fa un caldo pazzesco Erano impazziti tutti Erano impazziti tutti I film che di solito vendevano a 3 euro 5 euro Oggi era tutto a 1 euro Infatti mi sono sbizzarrito Ho comprato 8 film E un libro Che ora vi farò vedere Tanto vi faccio i cazzi miei su Facebook No scherzo Torno subito da voi Per tutti quelli che fanno il tifo Esci di sti film No li esco dopo la recensione Per tutti quelli che fanno il tifo Per il Gonza sullo skateboard Sappiate che Ho una Spesso si chiamano i fascite prantare Ho un dolore incredibile Quindi mi vedrete Più avanti sullo skate Ma di sicuro non mollo Intanto mi bevo un caffè Quanto è buono Oh ma domani Domani come finisce domani La partita Via Il caffè è andato Allora Per parlarvi di A classic horror story Senza spoiler Mi appoggerò a un sito Che per me è un grande riferimento Si chiama Non aprite questo blog Ci scrivo io L'ho fondato io Ed è il mio riferimento Sono molto autoreferenziale Allora Passiamo la musica Mettiamo La nostra solita musica Di come true Che ci piace molto Che uscirà in un video Con midday factory Mi raccomando Compratelo Perché è il mio film preferito Degli ultimi anni Uno dei miei film preferiti Ma che è quello De prima Partiamo Allora A classic horror story Esce il 14 luglio Sulla piattaforma Netflix È un film diretto Da Roberto De Feo E Paolo Stripoli Chi ha letto Già la recensione Troverà un po' ridondante Questa cosa che dirò Però lo devo dire Perché sono qua Per fare anche La parte video Curiosità Delle curiosità C'è Matilda Lutz Che vabbè Ragazzi È un'attrice bellissima Bravissima L'avete vista In Revenge Un film Raper Revenge Diretto da una donna Mi sembra addirittura Il primo film Raper Revenge Diretto da una donna Quindi Un bel caso E anche un bel film Della midday factory Andatelo a comprare Perché è stupendo Lei è bravissima Qua A classic horror story È ancora bravissima Con un personaggio Diverso Molto diverso Anche se ci sono Delle piccolissime Somiglianze Su alcune cose È davvero strano Come È molto empatica La prova recitativa Della Lutz È proprio Cioè A parte mi fa strano La chiamerò Matilda Perché la Lutz Mi sembra Il cognome Non è bello Quanto lei Quindi Meglio Matilda Che è un bellissimo nome È molto espressiva Veramente È toccante Quando Recita E poi Ha degli occhi enormi Ragazzi Ha le pupille Che sono enormi È molto strana Cioè strana In senso buono Cioè una bellezza Strana Molto bella Molto 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 bella È molto brava Ma non vi dico molto Su com'è brava Perché se no Vi spoilererei il film Però devo dire Che è Credibilissima Perfetta Impeccabile La recitazione Di questo film È una delle cose Che all'inizio Mi ha un po' Messo dei dubbi Nel senso che La parte iniziale Non mi ha convinto Tantissimo E la parte iniziale Del film È una Una parte iniziale Un po' Diciamo Commedia Si può dire Non convincente Sotto alcuni aspetti Quello che però Ho voluto scrivere Nella mia recensione Scritta appunto Che trovate sul sito Nonapritequestoblog.it È che Alla fine dei conti Qualche sbavatura Che poi c'è In quasi tutti i film Non intacca Quello che secondo me È il risultato finale Anche per la natura Del film Perché questo film È un film Che Si mette molto in gioco Si mette molto in gioco E quindi Quando ci si mette in gioco Bisogna mettere in conto Anche degli errori Superato una certa parte Di storia Insomma A un certo punto del film Ci sarà un cambio Di atmosfere Anche piuttosto Imprevisto Piuttosto Difficile da percepire E allora tutto inizierà A avere un senso Perché capirete La natura del film Anche se non capirete Veramente molto Di quello che c'è dietro E in questo Devo dire che sono stati bravi A sceneggiare Questa storia Perché non si capisce niente Fino alla fine Questo è molto bello Secondo me Perché se no Poi uno si scogliorà Anche se Molti film Horror Che vediamo Si intuiscono presto Le Le dinamiche Tanto appena notato Che il sito è un po' sbarrellato Penso che non gliene freghi niente Nessuno Lo sistemano dopo Un altro attore Che c'è Attrice Anzi Che c'è dentro È Cristina Donadio Che Non mi è capitato Spesso di incontrarla Nelle mie recensioni Ma mi è capitato Di incontrarla Nella recensione Di Escape From Planet Zero Che è un film Fatto in stile Kung Fury Un film di fantascienza Quindi non è horror Ma io l'ho recensito Su un altro sito Però la recensione Poi l'ho trasferita Comunque sono Capito questo vlog Se la volete vedere È un film che io vi consiglio Tantissimo Diretto da Dall'artista Perché dipinge Walt Zed Che è anche un mio amico Perché ci siamo conosciuti Tanti anni fa E Ha fatto un film Veramente bello ragazzi Io Non so che futuro Avrà questo film Se uscirà in un video Ma Perché non a me Merita L'un video Centomila volte Poi magari Un giorno di questi Lo sentirò Uno che è Cristina Donadio Ha recitato In questo film E ha recitato anche In la classe horror story Quindi L'ho trovata brava Comunque sempre Capace In questi ruoli Da Come si dice Caratterista No? Da caratterista Comunque la storia È dei Di Vabbè lo sapete Un gruppo di Di Carpooler Cioè quelli che viaggiano Insieme in macchina Per ridurre le spese A un certo punto Fanno un incidente E si ritrovano Un po' spaisati Non trovano più La strada Che stavano percorrendo E c'è una piccola casetta Che si vede nel trailer Tra l'altro c'è questa canzone Famosa Conosciuta da tutti gli italiani Non mi ricordo Chi la cantava Era una casa Molto carina Senza Insomma Una canzone Molto conosciuta Che si canta ai bambini Insomma È molto strana Messa sul trailer Di un film horror Ci sta di brutto Ci sta di brutto Ci saranno anche altre Canzoni famose Usate nel film Che secondo me Sono state usate Molto bene Una premessa Che ho fatto anche Nella recensione scritta La faccio qua Non aspettatevi The Nest Sarebbe stato assurdo A parte il fatto Che il film Non è solo di Roberto De Feo Ma è stato diretto Insieme a Paolo Strippoli Ma sarebbe stato assurdo Che Roberto De Feo Scusate Lo chiamo Roberto Manco fosse mio amico Anche se l'ho conosciuto È molto simpatico Comunque Spero diventi mio amico Insomma Se succederà Succederà Roberto De Feo Non credo che Volesse fare la stessa cosa Cioè Chi vuol far sempre La stessa cosa? Nessuno Quindi La natura di questo film È diversa Un tanto perché Comunque ha deciso Di fare una collaborazione Con Paolo Strippoli E poi perché C'è di mezzo Netflix Perché è stato pensato Come film Che non sarebbe andato In sala Ci sono tutta una serie Di componenti Che influenzano Il film stesso Quindi Le scoprirete Poi vedendolo L'unica Diciamo Punto in comune Con The Nest Ed è un punto in comune Con la maggior parte Dei film horror Fatti bene È che comunque Non si autospoilera Durante Il racconto Quindi Insomma Funziona bene Per tenerti La curiosità Di scoprire Un po' cosa c'è dietro E come andrà a finire Un altro aspetto Che ho trovato In pochissimi film È l'imprevedibilità Di quello che accade Cioè Di solito Anche i film più Che riescono a mascherare meglio Il twist Comunque le azioni Che portano Il film Dal punto A Al punto B Sono abbastanza banali E scontate In questo film È tutto abbastanza Imprevedibile Cioè Non Veramente È Fuori dalle logiche Fuori dalle logiche Consuete Di come si raccontano Le storie Tutto accade In modo assolutamente Assurdo Ma plausibile E quindi Alla fine Cioè Vi ho detto Il mio giudizio Del film Perché se vi sto dicendo Che è un film Assurdo ma plausibile Che riesce a nascondere Il twist Ma non solo Nel suo percorso È imprevedibile Si tiene proprio lì Incollato Ecco Questa è la sensazione Che ho avuto io Non vi nego Che ci sono Delle piccole Stonature E cose Che potevano Potevano essere fatte meglio Potevano essere fatte peggio Insomma Tutto è possibile Tutto si poteva fare meglio Ma il risultato Alla fine È un risultato Interessante Sia Come Entertainment Cioè divertimento Perché appunto Se sai Intrattenere E tenere segreto E incuriosire L'intrattenimento C'è O comunque Può risultare Un film Non Non noioso Ecco Non Di quelli Che proprio Ti cascano le palle E in più La parte più importante Che è quella Che me lo fa Diciamo Affezionare Difendere In quanto Nella mia posizione Di piccolo Microscopico Influencer Insomma Persona Che è seguita Per il suo giudizio Dei film E quindi Ho Questo Mi sento quasi Questo piccolo potere Microscopico Per cui Decido Che Certi film Diventano Delle mie bandierine Che mi porto Che rappresentano Quello che è La mia visione Del cinema No Cioè Nei registi In cui io Mi riconosco Come tipo di linguaggio Tipo di Visione artistica Non che siamo uguali Però appunto Come mi sono riconosciuto In Antebellum Per certe tematiche Sociali Come mi sono riconosciuto In Midsommar In tanti altri film Dove Soprattutto Voi sapete Chi mi segue tanto Quelli più politici Quelli più Legati a Proprio Alle problematiche Sociali O psichiche O religiose Ecco Anche quelli Diciamo Mi interessano molto Questo è uno Di quei film Che io Sposo Per gli intenti E difendo Lo difendo Nel senso Che invito Tutti quanti A vederne Veramente La natura Coraggiosa Proprio Di Veramente Di rischio Di grande rischio Secondo me Quindi faccio Un applauso Virtuale A Roberto De Feo E Paolo Stripoli E vi E vi invito A vederlo Il 14 luglio Allora Ho avuto anche Il piacere Di conoscere I due registi Perché Netflix Mi ha invitato A andare a vedere Un'installazione Che c'era qua a Milano Giovedì E venerdì Per il film Per promuovere il film C'erano anche loro Li ho conosciuti E sono stato contento Anche perché Loro hanno anche letto La mia recensione Quindi Insomma A me è fatto piacere Che Mi è andata bene Che ho conosciuto Due registi Di cui ho scritto bene Perché se no Sai che Comunque In realtà Poi se vedete La recensione Ci sono anche Delle critiche Leggere Lievi Perché comunque Non mi sono voluto Soffermare Su quelli che potevano Essere i difetti Che poi Tra l'altro Sono anche opinabili Perché poi Uno potrebbe anche dire Magari Essendo io Non regista Ma comunque Su certi aspetti Sono anche il mio pane Essendo io Un art director Quindi dal punto di vista Di fotografia C'era qualcosa Che non mi piaceva Ma c'erano anche Tante cose belle Ciao Ciao Silvano La fotografia La fotografia C'erano anche Certo Certo Funziona Tutto Tutto molto bene E Sì Ci sono Ci sono Poi Sta la sensibilità Vostra Vedere Su cosa Concentrarvi Di più E' un film Anche Che parla Di problematiche Sociali Sia antiche Che moderne Io l'ho trovato Molto bella Questa cosa Perché Secondo me Quello di cui parla Non ve lo dico Perché magari Ecco E' una roba Che sui giornali E' uscita Però Secondo me E' un po' spoiler Quindi non ve lo dico Io non ve lo dirò Anche se ci sono giornali Un po' Che hanno fatto Un po' di cazzate Perché Io li ho guardati Dopo che avevo visto il film E E E' erano spoiler Secondo me Quindi state molto attenti Anche a giornali Diciamo Blasonati Che Nel loro essere Sentirsi Di grandi fighi Poi alla fine Ti spoilerano il film E sono E in questo Sono veramente Dei cretini Mi spiace dirvelo Ragazzi Però Cioè Dall'alto Della vostra posizione Fate ridere Perché lo spoiler No Lo spoiler No Soprattutto per giornaletti Di cinema Non Non stiamo parlando Di Di Cahier du Cien Ma No Che uno Magari legge un'analisi Di un film O deve aver già visto Qua stiamo parlando Di parlare Di promuovere un film E spoilerarlo Allo stesso tempo Ci sarebbe da darvi Le bastonate Sulle gambe Comunque Ecco La recitazione Degli attori L'ho trovata Un po' Altalenante All'inizio E poi Convincente Nella parte Più drammatica Del film Se avete delle domande Fatemelo adesso Così poi chiudo Chiudo anche La recensione Non c'è tantissimo sangue Ma Ci sono scene Abbastanza forti Che sono anche Citazioni Ci sono anche Tante citazioni Di film Horror Vecchie Nuovi Non vorrei Paragonarlo Perché non c'entra Niente la storia Però Un'assonanza Con Quella casa nel bosco Che è un film Che appunto Celebra l'horror Un'assonanza Con quella casa nel bosco A classico horror story Ce l'ha È un film Mi ha incuriosito Penso che domani lo vedo È Adesso Grazie per la domanda Thomas Allora Silvano Non so Se poi hai seguito Tutto il discorso È un film Che come Come ho detto Ha delle sbavature Ma nel suo complesso Non mi è piaciuto L'intento Che è un intento Un po' Assurdo Di Di essere un film Assurdo Di essere un film Che esce dai Esce dai soliti Binari In un certo senso Anche Un tuo film Che Di fantascienza Che mi hai fatto vedere Che mi è piaciuto molto Adesso non mi sovviene il nome Perdonami Che mi è piaciuto Veramente tanto È un po' Assurdo Anche se Il tuo film È comico Apollo 54 Esatto Però ecco Apollo 54 È un film Un po' Fuori di testa E anche Il classico horror story È un film fuori di testa Ed è fuori di testa Perché A differenza di Apollo 54 Che è Prettamente un film comico Questo è un film Che veramente salta Da Da un genere All'altro In modo assolutamente Assurdo Mi è piaciuto Mi è piaciuto È un film coraggioso Cioè È incredibile Che un film così Come il classico horror story Sia su Netflix Cioè È incredibile Io Tempo fa Criticavo molto Netflix Al punto tale Che per me Netflix Rappresentava Ciò che è Plastica Ciò che è Industriale Ciò che Quindi Questo è veramente Un piccolo tassello Ora io non voglio dire Che Netflix Ha cambiato Magari Cambierà Non lo so Magari Diventerà Sì Arriva Il 14 luglio Su Netflix Io L'ho visto in anteprima Per la recensione Ma Manca pochissimo Oggi siamo Manca pochi giorni Quattro giorni E Netflix Potrebbe anche cambiare Nel senso che Le persone cambiano E Le persone che guidano Artisticamente Netflix Cambiano Magari Cambierà anche Come produzione di film Perché questo è Un film che mostra Non certo Un'omologazione Ecco Quello che vorrei dire Di sicuro Non si può dire Che a Classical Story è un film Omologato Cioè Che vuole accontentare Un pubblico Già addestrato Alla solita minestra Ecco Questo non lo si potrà Mai dire Di questo film Poi le critiche Si possono fare E forse qualcuno Le farà E forse Secondo me Un po' Dividerà il pubblico Ma Io credo che sia Solo un bene Per i film Che Che dividano il pubblico Perché Quando piacciono Più o meno A tutti Ma non hanno Quella promozione Che serve Come The Nest Rimangono un po' Sì conosciuti Ma Un po' Nell'ombra Non finiscono Sulle copertiche Quando invece Tutti iniziano A litigarci sopra In qualche maniera Se ne parla E forse Addirittura meglio Che divida il pubblico Comunque è un film Che chiaramente Si ispira E cita tantissimo Non aprite quella porta Le colline hanno gli occhi Ma anche film Come The Village O Lost La serie Questa è un'analogia Che ho fatto solo io Credo Non saprei neanche Dirvi come Esattamente Ma ci sono Delle sensazioni Di Lost Oppure Midsommar E altri film Di questa generazione Figata Una figata Una figata Spero che Spero che vadano avanti Così Insomma Le cose Sia Netflix Che Che perdefeo E Paolo Stripoli Che qua Mi sembra che lui sia Alla sua prima Regia di un lungometraggio Il suo prossimo film È Piove Ed è sempre un horror Ne so pochissimo Ma credo che In qualche maniera Riuscirò a scoprire qualcosa Perché siamo in contatto E Devo Approfitto per fare Per ringraziare Vabbè Intanto Netflix Che mi ha fatto vedere il film E la persona Insomma Con cui mi interfaccio Con Netflix Che è veramente Una persona eccezionale E E poi Devo dire che Ho conosciuto Appunto Roberto De Feo E Paolo Stripoli E Sono simpatici Cioè Sono proprio Dende Sono proprio Cioè Sono contento Che non ci sia più Questo divismo No Cioè Ci sono No ci sono Mi è capitato Incontrare Registi Che hanno fatto Quattro cose E si sentono Invece no Loro sono dei grandi Sono proprio Molto 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 Gentili Molto Per bene Lo so che Sembra brutto dire per bene Ma a me piace A me piace dirlo Per come lo intendo io È una cosa bella E quindi Sono contento per loro Spero che Spacchi il film Perché Un po' Perché comunque È italiano Lo so che Fa un po' provincial Un po' provincialismo Dire Facciamo il tifo Però a me piace L'idea che comunque Ci sia una rinascita Del cinema italiano Che secondo me È a tutti i livelli Dal cinema più underground Indipendente Al cinema Di Netflix Che non si sa Quanti milioni Di abbonati ha Cioè Quello che Quello che Mi è capitato Di parlare con Con Paolo Stripoli Di questa cosa Di dicevo Che emozione Gli dicevo Pensa che È vero Non vai in sala E questo è un grande peccato E loro sono d'accordo con me Però sono anche molto contenti Penso Quello che ho capito Perché comunque ragazzi Cioè Netflix Non so quanti milioni Di abbonati Adesso ve lo dico E il film va in contemporanea Mi sembra che Nel mondo Adesso io non so Adesso devo saperlo Perché mi è venuta la curiosità A 180 Allora da quello che dice Wikipedia Attualmente Ha 180 Milioni Di abbonati Chiaramente Hanno un potere Economico Enorme E quindi Se questo film va bene Se ne possono fare Altri 100.000 E anche altri Registi Italiani Quindi forza Cioè Se non sentite veramente Una spinta E non avete una ragione vera Per andare contro questo film Non fatelo Ecco Se non c'è una ragione valida Perché Perché questo film È qua anche Grazie ad altri film Che sono usciti prima Che non sono andati male Come The End Come Appunto The Nest Come Insomma Ce ne è Ne stanno uscendo Di film di genere Italiani Quindi Questa è una figata Dobbiamo Sì Criticare Giustamente I film che non sono Dove non sono venuti bene Ma Il cinema Non deve essere Per forza Una roba Dove tu O tagli la testa O promuovi Cioè Ci possono anche essere Delle critiche costruttive E anche Sobrie Nel senso che Un film può essere Anche mediocre Quasi sufficiente Insomma Non è che O è una merda O è bellissimo Cioè Quindi Perché così Si ammazza tutto Poi A proposito che c'è Silvano Io rimango sempre dell'idea Che Bisogna Andare anche a scoprire Delle chicche meravigliose Come il Demone di Laplace Che è È un capolavoro Secondo me Demone di Laplace Potrebbe starci Cioè Su Netflix Potrebbe Spaccare proprio Perché poi Netflix È la piattaforma Dove Tra virgolette Meritocratica Dove Comanda Il telecomando Cioè Comanda Comanda L'utente Quindi È il passaparola Mi è piaciuto questo Guardatelo È quello che comanda Quindi Mi auguro Che 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 Il Demone di Laplace Vada su Netflix O su Prime Amazon Prime O O su un'altra piattaforma Ecco Una di queste due Lo dico Senza offesa con le altre piattaforme Lo dico per la questione di 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 Pubblico Ecco Con questo Chiudo la mia recensione Diciamo Che non è proprio una recensione Diciamo È un pur parler Perché poi la recensione Diciamo Più quadrata Più definita Dove dico esattamente Quello che voglio dire La trovate sul sito Nonapritiquestoblog.it Ringrazio Appunto I due Registi Che sono stati gentilissimi Mi hanno anche ringraziato La recensione Io li ringrazio Per il bel film E Fatemi sapere Veramente 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 Io ho fatto un post Su Instagram Dei post Su Facebook E Farò Caricherò Questo Questo video Su Youtube Fatemi sapere Sotto Quando avete visto Il film Cosa ne pensate E se siete o non siete D'accordo Con la mia recensione Eccetera Eccetera Quindi ognuno Con il suo social preferito Andate Cercatevi il post Specifico E fatemi sapere E' caduto E' caduto Sto affare La ma Chiaro? Va bene Alla prossima Questo Alla prossima Questo era un saluto Che faccio per il video